ciao e benvenuto in questa nuova pillola le pompe di calore elettriche per una casa senza gas io sono samuele trento sono un ingegnere meccanico che si è specializzato nei sistemi in pompa di calore e oggi daremo risposta alla domanda dove si installa di solito la pompa di calore serve un locale tecnico ecco è la domanda che viene fatta quando una famiglia ha deciso di staccarsi completamente dal contatore del gas e magari non ha idea di che cosa bisogna fare se basta semplicemente togliere la caldaia dal muro e mettere la pompa di calore al suo posto ebbene no ebbene no perché perché la pompa di calore ha un sistema e è costituita da alcuni componenti in più rispetto a una caldaia apriamo le due categorie pompe di calore aria acqua quindi pompe di calore che hanno bisogno di aria esterna per poter funzionare quindi sono sistemi che sicuramente hanno un'unità esterna da posizionare appunto fuori alcuni mi chiedono ma posso metterla in una sottoscala piuttosto che una bocca da lupo no dobbiamo recuperare più energia possibile dall'aria quindi la pompa di calore deve stare all'aria più possibile deve girare più possibile aria e quindi la devo mettere in posizione dove il flusso d'aria sia abbondante non la posso mettere come un condizionatore appiccicata al muro a 10 centimetri perché lì passa poca aria e la pompa di calore probabilmente funzionerà lo stesso ma anziché recuperare energia dall'aria la recupera dalla corrente elettrica quindi mi ritrovo delle bollette molto più alte solo perché non ho dato la possibilità alla pompa di calore di lavorare bene quindi primo passaggio per un sistema aria acqua è trovare lo spazio il posto per posizionare l'unità esterna la posso posizionare in giardino la posso posizionare al di là del muro la posso fissare anche a muro ma ben distante almeno 30 centimetri dal muro in modo che dietro l'aria passi in maniera abbondante alcuni sistemi possono essere anche canalizzati quindi possono trovare spazio in mare all'interno e hanno bisogno poi di grandi fori per poter scambiare l'aria con l'esterno perché l'aria deve essere abbondante a questo poi aggiungo un'unità interna che può essere in alcuni casi vista come quella della caldaia perché possono essere unità a parete quindi un'unità molto simile a quella della caldaia oppure unità a basamento consideriamo sempre come abbiamo già visto nelle altre pillole che dobbiamo accumulare acqua calda sanitaria quindi per forza devo trovare spazio per un accumulo quindi un locale tecnico sì è quasi sempre indispensabile perché devo mettere della componentistica che difficilmente trova spazio magari nello scambuzzino in cucina dove adesso ad esempio è installata la caldaia quindi nei condomini non sempre c'è la possibilità di installare una pompa di calore perché devo trovare questi spazi consideriamo poi che un accumulo di acqua calda sanitaria pesa pesa notevolmente perché un accumulo da 200 litri sufficiente per una famiglia di quattro persone e già la lamiera di per sé peserà 100 150 chili a questa c'è anche 200 chili di acqua perché 200 litri equivalgono a 200 chili e quindi siamo già 300 chili di accumulo che vado a posare nell'appartamento la domanda è il solaio del mio appartamento è stato progettato per sostenere tutto questo peso ecco qui subentrano ovviamente i progettisti che dovranno fare le loro valutazioni oppure anche il terrazzo il terrazzo è stato progettato per mantenere questo peso quindi non sottovalutiamo il fattore peso che nelle caldaie l'influente perché le caldaie pesano molto meno e non hanno bisogno per forza di un accumulo di acqua con le pompe di calore sì quindi si parla di spazio e si parla ovviamente anche di peso se invece apriamo il tema pompe di calore geotermiche quelle che lavorano con l'acqua di falda o con una sonda chiusa nel terreno ecco che non abbiamo in quel caso bisogno di un'unità esterna quindi non vediamo nulla all'esterno ma abbiamo semplicemente un sistema che viene posizionato in centrale termica anche qui però c'è sempre la necessità di un accumulo quindi abbiamo la necessità di trovare lo spazio per la pompa di calore che passa nel termine potrebbe trovare lo spazio di una lavatrice per una casa villetta residenziale e di un bollitore da 70 centimetri di diametro per un metro 80 di altezza come ordine di grandezza da posizionarsi a fianco per avere l'acqua calda sanitaria che non posso produrre in altri in altri modi quindi quasi sempre c'è la necessità di un locale tecnico e poi dobbiamo valutare gli spazi esterni ed interni per la componentistica ricordiamoci poi come già detto che la pompa di calore ha bisogno di elevate portate cioè ha bisogno di tanta acqua per funzionare bene e quindi anche le tubazioni devono essere rifatte valutiamo queste tutte queste lavorazioni affinché siano fattibili nel nostro appartamento nella nostra villetta e che non pensiamo semplicemente di togliere la caldaia e mettere una pompa di calore bene spero con questo di averti dato qualche suggerimento in più per fare la tua scelta consapevole e per capire se effettivamente una pompa di calore può essere installata a casa tua se hai gli spazi adeguati per poterla installare e con questo ti do appuntamento come sempre alla prossima pillola grazie